I consiglieri di Progetto Tenno, Andrea Cobbe e Nicola Stanga, non sono soddisfatti delle risposte all'interrogazione relativa ai conferimenti alla discarica del Vermione che il sindaco di Tenno, Frizzi, ha dato nei giorni scorsi. La replica di Frizzi, dicono, è arrivata solo qualche ora prima dell'inizio della seduta di Consiglio Comunale di lunedì sera, riservata al bilancio di previsione, un gesto che i due consiglieri considerano irrispettoso nei loro confronti perché ha impedito loro di accedere agli atti nei tempi dovuti. Ma a sollevare perplessità sono soprattutto i contenuti del documento, attraverso i quali lo stesso sindaco Frizzi fa sapere che la GEDI deve ancora provvedere al pagamento degli importi del primo e del secondo quadrimestre 2016 per un ammontare di 10.000 euro. La ditta è stata sollecitata al saldo, nonché a comunicare il quantitativo dei conferimenti del terzo quadrimestre, al quale seguirà l'emissione della fattura. Il legale rappresentante, continua Frizzi, ha assicurato che avrebbe provveduto agli addempimenti entro fine febbraio. Si fa tuttavia presente che nel 2016, essendo in corso importanti opere pubbliche con grossi conferimenti, come quelli per il rifacimento delle fognature, l'amministrazione comunale tennese non ha voluto esasperare i rapporti con la GEDI, in evidenti difficoltà economiche, al fine di evitare al Comune stesso un danno ben maggiore collegato alla eventualità di una chiusura per fallimento della discarica. Frizzi poi fa sapere che trascorso il termine di fine febbraio si può provvedere in ogni caso ad inoltrare richieste di escussione della fideiussione per gli importi relativi al 2016, fino al raggiungimento di 50.000 euro. Per quanto riguarda i controlli, Frizzi ci tiene a ricordare che già nel gennaio 2016 il Comune aveva effettuato propri prelievi tramite il laboratorio di Dolomiti Energia, non riscontrando situazioni fuori limite. Dopo di allora non sono stati eseguiti altri controlli. I due consiglieri, infine, esprimono preoccupazione in quanto i controlli non vengono eseguiti con regolarità. C'era la possibilità di farne quattro all'anno a sorpresa e non è stato fatto nemmeno uno e questo significa che la discarica è da più di un anno in balia di se stessa.